Buongiorno, da Valerio Bergamini, di associazione italiana Sommiglie Varese, siamo qua a Villa Doria, a Varese, per questa bella giornata, vini, vini e sapori, organizzati da Macchers, SRL, abbiamo avuto l'occasione di comprare vini campani, ma anche di altre regioni del sud, compagni lombardi, qui abbiamo l'azienda Quartomiglio, con questo piedi rosso dei campi flegrei, un vino rosso molto tipico, questo profumo minerale, con il sentore proprio del terreno, dei campi flegrei che è molto particolare, e anche al sapore, abbiamo una buona acidità, è un giusto tallino, sicuramente anche per me, diciamo, di Varese, quindi con un nonno, una grande esperienza per i vini del sud, è stata una giornata veramente interessante, perché abbiamo avuto modo di conoscere molte aziende veramente di grande qualità e con dei prodotti con un buonissimo rapporto.